Una buona serata telespettatrici e telespettatori e ben ritrovati a questa nuova puntata di TV7 Comuni, il programma dedicato al nostro territorio Veneto e che ci parla attraverso la voce dei nostri primi cittadini. Anche questa sera affronteremo numerose tematiche, questa volta legate al Comune di Tombolo, così come facciamo con tutti i comuni del Regione Veneto. Come sapete ogni luogo ha le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità, ma è anche grazie alla vostra partecipazione che riusciamo a mettere a fuoco le caratteristiche insieme ai nostri primi cittadini. Come di consueto vi ricordo i nostri contatti per mandarci messaggi alla 347-247-1498 oppure ci potete mandare una mail a tv7comuni-gruppotv7.com con le vostre segnalazioni. Adesso andiamo a presentare l'ospite della serata con Maurizio. Cittadini e cittadine di Tombolo, a noi tutta l'attenzione perché questa sera parliamo proprio del vostro paese, della vostra città, con il sindaco Cristian Andretta. Grazie per averci raggiunto nei nostri studi, sindaco. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Fa sempre piacere poter parlare dei nostri territori, nello specifico del nostro, di Tombolo. Sì, fa piacere anche a noi perché Tombolo è una realtà dell'Alta Padovana molto attiva, stiamo scoprendo, e che soprattutto si sta concentrando su diversi progetti di riqualificazione. Sindaco, vediamo questo contributo e poi ne discutiamo assieme in studio. Tombolo punta sul recupero dei propri edifici e spazi. Chi tra voi vive in questa cittadina dell'Alta Padovana l'avrà notato. Da qualche mese Tombolo sta investendo molto sulla riqualificazione. L'intervento principale l'ha visto Piazza 11 Settembre, completamente trasformata, grazie ad un intervento guidato da Ali, dove prima c'era un'area di smessa in degrado. Ma facciamo il punto anche sulle opere finanziate dal Comune, partendo dalla frazione di Onara. Qui l'ex edificio delle poste sta venendo trasformato in un centro polifunzionale per la cittadina, con 560 mila euro. Partirà a brevissimo poi il cantiere della Biblioteca Comunale, nella zona degli istituti, a cui si aggiungerà il restauro della palestrina nelle vicinanze. Allora Sindaco, andiamo con ordine. Innanzitutto una nuova piazza per Tombolo, grazie a un intervento guidato anche da Ali e che ha portato un po' di riassetto nel centro della cittadina, ma poi anche degli interventi a Onara e alla Biblioteca Comunale, giusto? Certo. Fa parte di un progetto che è partito ancora dieci anni fa con l'insediamento della nostra amministrazione, che punta a un connubio tra pubblico e privato. Sempre più frequentemente di questi tempi i comuni hanno dei bilanci molto stringati e molto rigidi. Di conseguenza è necessario trovare anche privati, nella fattispecie imprenditori, che investono nel nostro territorio. Abbiamo realizzato due progetti in particolare di riqualificazione, quello della LI che abbiamo visto nel servizio e questo ha portato veramente un recupero importante di un'area che per vari motivi era in stato di degrado, era dovuto a un fallimento fondamentalmente e il curatore non ci permetteva di intervenire nell'area, però allo stesso tempo c'era la necessità di metterla in ordine. Ali ha creduto nel progetto e siamo partiti e tutto è andato a buon fine e è sotto gli occhi di tutti che riqualificazione è stata fatta. Poi anche una fabbrica a Donara, la Spazzol Plastic, l'imprenditore titolare è venuto da noi e ha detto vorrei riqualificare l'area e ha fatto uno degli impianti più grandi del Veneto di Paddel, sette campi, un bar, dei laboratori artigianali, a breve aprirà una pizzeria, il primo piano è stata aperta una palestra ma soprattutto ha riqualificato l'area fornendo un servizio di cui era carente il territorio che è soprattutto i parcheggi lungo la dorsale che collega Cittadella e Camposampiede. Quindi due privati hanno contribuito alla riqualificazione. Sono interventi di milioni di euro che i comuni fanno fatica a fare in questo periodo storico. Poi ci abbiamo messo del nostro a livello pubblico portando avanti dei progetti di lunga data partiti addirittura prima della mia amministrazione che è quella della riqualificazione dell'edificio polivalente a Donara proprio in centro, abbiamo visto nel filmato e adesso è stata appaltata anche la riqualificazione dell'ex polo scolastico in cui verrà realizzata una biblioteca e sala della tecnologia, perciò una biblioteca anche multimediale con dei contenuti tecnologici per essere attrattivi soprattutto alle nuove generazioni che sono nativi digitali. Ecco, che tempi ci sono per questa biblioteca che so essere molto attesa? Allora, i tempi dovrebbero essere relativamente brevi. Il bando è stato fatto, è stato appaltato, è stato aggiudicato e i lavori dovrebbero partire a breve. Dovevano, dire la verità, già essere partiti a settembre, non so per quali motivi c'è un piccolo ritardo da parte della ditta appaltatrice, i tempi di consegna sono di un anno. Purtroppo io come sindaco non li vedrò realizzati perché terminerò il mio mandato a giugno, ma non ho mai lavorato in quest'ottica, ho sempre lavorato nell'ottica della serenità, della continuità. Pensa che alla fine del primo mandato avevamo tante cose in piedi, il campo sportivo, abbiamo fatto due campi in erba sintetica e li abbiamo inaugurati dopo la mia rielezione. Perché? I tempi si allungano. No, ma la vita deve essere una cosa naturale, tu non devi fare le cose per avere il consenso, ma devi fare le cose perché fanno bene, fanno crescere un territorio. Certo, certo. E tanti sindaci ragionano in quest'ottica e facciamo il bene dell'alta padovana. Ecco, a proposito di investimenti ovviamente non si può non parlare di PNRR che ha interessato anche il vostro comune, quindi Tombolo. In particolar modo per quanto riguarda l'aggiornamento tecnologico, giusto sindaco? Sì, noi abbiamo ottenuto come quasi tutti i comuni d'Italia un contributo PNRR interessante, si parla di 223 mila euro per digitalizzare, informatizzare e ammodernare tutta la parte tecnologica del comune e dei servizi rivolti alla cittadinanza. È un processo impegnativo che è partito già da parecchi mesi, abbiamo un referente all'interno del comune che sta valutando quali sono i servizi migliori, quali sono le aziende migliori a cui rivolgersi, sempre compatibilmente con il codice degli appalti che ci permette poi di affidare questi servizi, ma è importante avere anche una conoscenza di quello che si va ad acquistare perché tante volte quando arrivano soldi a cascata si rischia di spenderli in maniera approssimativa. Abbiamo fatto proprio un briefing ieri, sta procedendo, siamo a più di metà del cammino, penso che verso l'inizio dell'anno prossimo sarà terminato. Questo anche per i cittadini quindi sarà un vantaggio perché sarà più semplice accedere ai servizi proposti dal comune, fare prenotazioni, giusto? Insomma qualcosa di molto pratico. Già qualcosa perché io penso che nella vita dai momenti più difficili, dai momenti più impegnativi si possano ricavare delle opportunità. Già col Covid abbiamo automatizzato tutte le prenotazioni perché c'era l'impedimento fisico di creare assembramenti, di venire in comune, ma per determinati servizi tipo rinnovo della carta d'identità ed altri servizi abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo automatizzato tutto e questo ha portato un beneficio organizzativo ma anche i tempi di attesa da parte dei cittadini che prima venivano prevalentemente di sabato e si creavano colonne di gente che aspettava, hanno risolto questo tipo di impedimenti con un servizio quasi puntuale che spacca il minuto e questa è una buona cosa. E niente, stiamo portando avanti tutto questo sistema per migliorare i servizi e la cittadinanza. Perfetto, un altro dei temi che so essere molto cari alla popolazione è quello della sicurezza. Nella vostra cittadina c'è addirittura una caserma dei carabinieri, quindi insomma il territorio è presidiato in un certo senso, c'è sempre una richiesta di maggiore sicurezza e in questo senso cosa si sta facendo? Il tema della sicurezza è un tema impegnativo e bisogna sempre parlarne con cognizione di causa. C'è molta differenza tra quello che è la situazione reale e quello che a volte è il percepito. L'importante è innanzitutto collaborare, anche i cittadini devono collaborare con l'amministrazione, con i vigili, con i carabinieri e con tutte le forze che si adoperano per la sicurezza del territorio, mentre tante volte si usano i social in maniera inappropriata creando più alarmismo che cercando di risolvere il problema in maniera fattiva. La sicurezza nei nostri territori, ma in generale nell'Alta Padovana è molto alta, abbiamo un comando molto valido, il comandante Pezzo che è a distanza cittadella, noi abbiamo la caserma che serve Tombolo, Galliera e San Giorgio in Bosco ed è integrata col comando dell'Alta Padovana. C'è una collaborazione molto importante che si interseca proprio per coprire le aree e per non essere scoperti e c'è una grande collaborazione da parte degli amministratori dell'Alta Padovana, compreso il comune di Tombolo, con le forze dell'ordine. C'è proprio una collaborazione, non dico giornaliera, ma quasi al fine di raccordarci, informarci della vicenda per far sì che il territorio sia sicuro. Sappiamo che i periodi di maggiore tranquillità sono quelli in cui la gente è a casa, è in ambito lavorativo, nei momenti in cui sono in vacanza, nei momenti in cui si avvicinano le festività, sono dei momenti in cui bisogna stare particolarmente attenti, ma le forze sono pronte, sono nel territorio. Poi la perfezione non esiste e logicamente chi poi è colpito da questi eventi esprime un disagio, ma è anche normale che sia così e noi siamo lì anche per raccogliere purtroppo questi atti che succedono e cercare di consolare e riparare le situazioni. Sindaco, come al solito a TV7 Comuni arrivano delle richieste e delle domande da parte dei cittadini e per lei sono arrivate due domande, vero Belmaris? Sì, Sindaco, abbiamo Simona che chiede, manca ancora una pista ciclabile che ci colleghi alla stazione dei treni, ne avremo mai una? Allora, se è la Simona che dico io, penso anche di conoscerla e abita anche vicino a casa mia, noi abbiamo fatto un lavoro compatibilmente con le risorse a disposizione, ci siamo seduti e abbiamo valutato cosa significa pista ciclabile. Pista ciclabile deve essere una cosa che collega ad un altro territorio, non può restare lettera morta finalizzata solo al territorio, perché poi si prosegue anche nell'altro territorio. Perciò abbiamo lavorato prima con due piste ciclabili per collegare dei lavori già fatti da altre amministrazioni, nella fattispecie Villa del Conte alla frazione di Onara, l'abbiamo terminata l'anno scorso, e da San Martino di Lupari a Tombolo nella dorsale centrale del paese, nella provinciale. Piste di comunicazione insomma. Abbiamo fatto due bei tratti, il terzo tratto che abbiamo altri due progetti, uno insieme con San Martino di Lupari per fare la pista ciclabile che collega praticamente dalla stazione dei treni fino a San Martino passando per via Sommavilla che è una delle vie più importanti del paese e anche delle più trafficate. Qui abbiamo già un progetto preliminare, stiamo passando al setaccio i vari bandi per poter attingere delle risorse, anche perché le piste ciclabili costano parecchio. E dopo un'altra che è in programma, che è nel piano triennale delle opere, che ogni comune deve stillare ogni anno per il triennio successivo, è quella che collega la frazione di Santa Maria di Cittadella ad Onara e questo completerebbe anche un circuito turistico che collega Cittadella alla palude di Onara che sappiamo sono anche intrecciate da fatti storici risalendo a 800 e rotti anni fa e abbiamo un parco importante da valorizzare sfruttando anche il turismo che arriva da Cittadella. Mi scusi, adesso abbiamo Giussi invece che chiede, Sindaco abbiamo un bellissimo auditorium ma siamo sicuri di riuscire a riempirlo sempre di spettacoli? Allora, l'auditorium la ringrazio per il molto bello, è stata una scelta proprio amministrativa in cui ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo creduto fin dal primo mandato, perciò del 2014, perché la cultura, l'arte rendono liberi, permettono alle persone di esprimersi e generano delle persone pensanti. L'abbiamo realizzato, ci sono un sacco di eventi, in questo momento storico stiamo approntando una gestione congiunta da parte di più associazioni per vedere quali sono i punti di forza, i punti deboli al fine poi di affidare il teatro a una gestione che permetta una gestione puntuale sia delle manutenzioni, sia delle aperture, delle chiusure e anche dell'organizzazione degli spettacoli, perché il mondo dell'arte e della cultura è vario, c'è l'aspetto di manovalanza e l'aspetto anche artistico e spesso e volentieri è difficile trovare le persone che forniscono entrambi i servizi, perché bisogna garantire apertura, chiusura e la parte artistica. Però diciamo che già in questi anni portiamo circa 40-50 spettacoli all'anno, quello che manca a volte è l'informazione, perché tante associazioni che fanno questi spettacoli non hanno una forza di divulgazione tale da arrivare alle corde di tutti i cittadini, perciò magari facciamo dei bellissimi eventi e magari vengono poche persone, però il teatro è stato calibrato anche per le misure di tombolo, tiene 130-140 poi a seconda degli spettacoli posti e di solito riusciamo a riempirlo quando facciamo gli eventi. Bene Sindaco, ci fermiamo giusto qualche istante e poi torniamo a parlare di Tomboro. Mi raccomando, non cambiate canale.